La Gran Cors per la Sportiva è una manifestazione importante, la seguiamo già da anni. Siamo il main sponsor della Gran Cors e il Pieramento ovviamente ne fa parte, siamo molto vicini a tutto quello che è l'ambiente dello scialpinismo, crediamo molto come azienda, la sportiva nello scialpinismo, infatti siamo sempre al lavoro per riuscire a cercare novità che riguardano ovviamente il mondo delle gare. È una manifestazione forse ovviamente quella più importante di quel che riguarda la Gran Cors, è sempre bellissimo, è un'emozione essere qui appunto a contatto con gli atleti e con i giovani. La Gran Cors rispetto magari a tutte le altre gare che ci sono è proprio il fatto diciamo di essere presente proprio con gli atleti, alla fine un tutt'uno, sono sempre lì vicino a loro e che li incito anche magari, sto attento perché ovviamente siamo qui per appunto assisterli anche per quanto riguarda i materiali. E' un susseguirsi di emozioni, appunto seguire queste tappe della Gran Cors, alzarsi la mattina, portarsi sul percorso, viverla intensamente.